L'Accademia d'Organo e Musica Antica Giuseppe Gerardeschi di Pistoia si appresta a vivere il suo primo Open Day. L'appuntamento è per sabato 10 settembre quando negli ambienti della parrocchia di Sant'Ignazio saranno presentati nuovi corsi. È il primo Open Day che fa vedere tutte le varie sfaccettature delle attività di questa Accademia. Istituita ufficialmente nel 1975 l'Accademia guidata da Don Umberto Pinicchi oggi è un punto di riferimento mondiale per la musica d'organo. Negli anni sono stati tantissimi di studiose arrivati a Pistoia da paesi diversi per studiare e perfezionarsi. Un percorso che oggi al fianco della musica per organo vede presenti molti altri corsi. Corsi annuali offerti dall'Accademia sono quello di canto barocco, di flauto traversiere, di flauto dolce, di obe barocco e tastiere storiche e archi barocchi. Quindi avremo violino barocco e violoncello barocco con insegnanti prestigiosissimi. Tra le novità un percorso tutto dedicato al canto per i giovanissimi. Accanto ai professionisti da quest'anno ci saranno anche più piccoli appunto con una serie di corsi che noi abbiamo chiamato pre-accademici e con un progetto molto bello legato a un coro giovanile che canterà appunto il repertorio di cui si occupa l'Accademia cioè quindi dal primo 600 fino verso la metà dell'800. Ci sono veramente diverse direzioni in questa attività che non c'erano all'inizio e che fanno ben sperare per il futuro.